l'inglese è importante ma non è necessaria la perfezione per testimoniarlo per testimoniarlo bene ti lascio la parola bene grazie parlare dopo maura e dopo questa storia è veramente un po faticoso perché mi sono commossa a vedere ma ora sul palco di nuovo bene allora il oggi praticamente l'intervento di oggi è la continuazione del dell'intervento che ho fatto al freelance camp a settembre allora parlavo del come contribuire in una rete può aiutare a trovare lavoro e poi mi sono fermata rispetto al mio al fatto che io ho trovato lavoro ho trovato lavoro all'estero prima di iniziare devo fare una premessa raccontare un aneddoto a fine 2017 negli ultimi mesi del 2017 la mia amica Alice Orru che ho parlato prima mi segnalò una azienda che stava cercando un profilo e lei mi disse guarda questo profilo è proprio adatto a te ovviamente era un'azienda straniera americana tra l'altro una azienda dei sogni perché un'azienda che lavora interamente da remoto una di quelle aziende in cui tutti vorremmo lavorare con dei benefit eccetera ovviamente era in inglese io ci pensai un po' poi i decisi che potevo potevo buttarmi in questa avventura e nel frattempo proprio mentre stavo lavorando a costruire il curriculum in inglese grazie anche all'aiuto di una insegnante con cui io stavo facendo conversazioni inglesi in quel periodo reintercettai altre domande in pratica io quindi a novembre a fine ottobre 2017 mandai via tre domande di lavoro in inglese due domande una domanda era la compitazione di un modulo e quindi era tutto sommato semplice le altre due dovevano avrei dovuto ho dovuto mandare un il mio curriculum in allegato a una email mandate via questa e queste due email mi sono accorta che c'era un errore di grammatica nel tit nell'oggetto dell'email ovviamente figura di m e come faccio spesso mi sono presa in giro e in quel momento mi sono presa in giro su facebook quindi scrivendo questa piccola storia triste dove appunto io ho fatto questa cosa qua tra i commenti di incoraggiamento che mi arrivarono a quel post ci fu il commento di quello che allora era responsabile del supporto di host e che adesso è uno dei manager che mi scrisse bene e si vede che devi fare più esercizio nel fare domanda di lavoro in inglese hai mai pensato di scrivere a ios e io dissi cavolo se tacco mi dice così ci sarà qualcosa di aperto vado a vedere sul sito di ios non c'erano posizioni aperte ho detto vabbè tacco mi stava un po prendendo in giro e così continuai i mesi a gennaio del 2018 invece intercettai l'offerta di lavoro per agenti di supporto a ios a quel punto io avevo anche un po abbandonato l'idea di lavorare all'estero però li prevalse la sabauditudine e dissi beh tacco mi ha appena detto che avrei dovuto provare a ios a e io gli avevo risposto certo magari sarà la prossima azienda in cui farò domanda adesso io mica non posso presentare domanda lo devo fare e di qui ovviamente presentai domanda e la la fine della storia è che dal marzo 2018 lavoro agliost allora in questi quattro quasi cinque anni di lavoro agliost cosa ho imparato e voglio condividere oggi alcune riflessioni su questi cinque anni e ho queste bellissime slide allora la prima slide la prima parola che ho imparato è osare osare è tipica piemontese io non mi oso no quando c'è ma ma no ma buttati no non mi oso e poi l'altra veste della sindrome del dell'impostore che sta sempre sulla spalla no e quindi la cosa che che a posteriori mi viene da dire è che se veramente uno vuole lavorare e lavorare all'estero si deve buttare si deve buttare deve trovare intercettare cercare posizioni aperte ce ne sono tantissime su tantissimi siti da remoto da non remoto ovviamente deve cercare bisogna cercare qualcosa che sia come dire coerente col proprio curriculum e con i propri desideri e con le proprie competenze più che col curriculum inteso all'italiana proprio più in linea con quelle che sono le caratteristiche personali le competenze acquisite ecco più che sui titoli eccetera non bisogna avere paura di sentirsi dire dei no perché parafrasando un libro di pure cultura in noi aiutano a crescere cioè quando si ricevono dei no per delle domande di lavoro bisogna capire perché che cosa non è andato per il verso giusto cosa si può migliorare cosa si può come dire come si può essere più convincenti osare osare al di là anche della perfezione della propria lingua adesso io parlo per l'inglese perché ovviamente io lavoro per un'azienda olandese le cui comunicazioni sono in inglese e quindi ovviamente una base di inglese bisogna averla nel caso in cui uno si cerchi un lavoro per un'azienda in un'azienda diciamo inglese o comunque che usa l'inglese come lingua di comunicazione però la stessa cosa è che se si vuole andare a lavorare in america latina o in spagna bisogna avere un'infarinatura di spagnolo bisogna capirlo insomma diciamo in un livello un po più di elementare ecco però la cosa importante che non bisogna saperlo almeno nel mio caso non non è stato necessario avere un livello alto di inglese per entrare perché per esempio perché la maggior parte delle comunicazioni che avvengono nella mia azienda sono comunicazioni scritte e questo come dire da un certo respiro perché uno si può prendere il tempo di capire bene il testo che sta leggendo e nello stesso tempo anche di capire bene di prendersi del tempo per scrivere il testo che si vuole scrivere e qui arriviamo alla punto 2 fatti capire allora la cosa che è importante per me e che è che ho imparato e che farsi capire è molto più importante del pronunciare bene sono contenta che gli interventi prima di me siano stati quelli di francesca e alice che in questo senso hanno dato molti stimoli molti spunti siamo italiani in questo siamo molto facilitati almeno io sono facilitata perché uso molto la faccia uso molto le mani e quindi anche quando faccio diciamo delle call delle incontri online in inglese diciamo che annuire sorridere mi aiuta molto nella comunicazione e questo mi è stato detto anche mi è insomma è stato apprezzato quindi io sempre come dire colmato le mie lacune di nelle conversazioni utilizzando appunto la gestualità e la mimica facciale chiaramente anche se non è così fondamentale la pronuncia lo diceva prima anche alessandra e francesca lo sottolineava chiaro che bisogna fare attenzione perché a volte ci sono degli sbarioni in inglese soprattutto quindi bisogna fare attenzione a come si pronunciano alcune cose però generalmente soprattutto nelle conversazioni il senso colma come dire la malpronuncia di un termine e poi uno quando è in una conversazione la come dire la c'è ha la possibilità di capire se l'altro sta capendo quello che noi stiamo dicendo e quindi anche di aggiustare il tiro chiedere per piacere puoi ripetere è sempre una regola d'oro chiedere di parlare più lentamente sempre una regola d'oro spoiler le persone sanno benissimo che noi non siamo madrelingua inglese e quindi non si aspettano da noi che parliamo un perfetto inglese si aspettano degli errori come diceva francesca è normale e soprattutto si aspettano che come dire noi possiamo anche avere delle difficoltà di conversazione quindi ci danno il tempo di o ci chiedono chiarimenti o ci danno il tempo di ripetere di chiarificare meglio quello che pensiamo dicevo che io lavoro in un'azienda olandese che usa il l'inglese come lingua di comunicazione quantomeno tra gli stranieri ecco perché poi tra gli olandesi usano l'olandese e qui veniamo a un altro punto il contesto multiculturale aiuta perché aiuta appunto io nel mio team siamo in circa 30 e ci sono persone di tutte culture tutte diverse questo vuol dire che anche le nostre conversazioni sono conversazioni che avvengono ad esempio durante le riunioni di team sono conversazioni che avvengono ad un diciamo livello abbastanza semplice ecco cerchiamo di parlare comunque piano cerchiamo di ripetere le cose cerchiamo di aiutare le persone se queste persone hanno difficoltà di espressione e così via siamo tutti molto più tolleranti anche rispetto alla nostra pronuncia e alle cose che dicevo ma il contesto multiculturale ostacola e questo lo diceva molto bene alice nel suo intervento perché perché se è vero che siamo tutti più tolleranti rispetto al nostro inglese in realtà tutti pensiamo che tutti quanti abbiano la nostra forma mentis e invece no ogni cultura ha la propria forma mentis e questo bisogna tenerlo sempre presente quando si lavora all'estero in un contesto multiculturale per esempio gli olandesi sono molto diretti sono molto schietti sono sono dei gran gioviali loro si divertono molto ridono molto ma sul lavoro rispetto dei tempi rispetto dei task e così via e se non li rispetti un secondo dopo hai la email perché non hai rispettato questa scadenza perché hai sbagliato questa cosa e devo dire che questo ad esempio a me ha molti 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 problemi all'inizio perché ogni volta che diciamo mi veniva sottolineato qualcosa che io avevo sbagliato scattava la paura oddio adesso mi licenziano ecco sono inadeguata altro che sindrome dell'impostore che mi picchia sulla testa no vedi sei una ciarlatana ciarlatana vedi cosa hai fatto sei andata a lavorare lì ma non sei adeguata quindi sensi di impotenza e di inadeguatezza a manetta nello stesso tempo quando parli con appunto con culture diverse devi fare attenzione ai termini che usi all'emoji che usi io uso dell'emoji cuori a manetta di tutti i colori in genere sono ben sono interpretati giusti per cui metto molti cuori verdi molti cuori gialli e insomma e pochi altri poche altre emoji facilmente interpretabili in modi sbagliati io ad esempio i miei colleghi indiani sono molto ossequiosi per cui anche lì fare molta attenzione quando magari intervengo per su certi aspetti a parlare con loro specificando che non è qualcosa contro di loro chiedendo scusa perché mi permetto di dire loro delle cose eccetera quindi insomma fare attenzione alla multiculturalità ma la cosa più importante che ho imparato in questi cinque anni è a smetterla di dire sorry for my english quando al supporto ricevo una email con sorry my english is not perfect sorry e cose così io dico questo italiano e c'è a zecco nel 90 per cento dei casi c'è qualche anche qualche spagnolo che dice sorry for my english i francesi se ne fregano perché parlano direttamente in francese e anche i tedeschi parlano direttamente in tedesco non dire mai sorry for my english perché la risposta classica è quella che ha già detto alessandra prima se io parlassi che ne so il lo spagnolo come tu parli l'italiano come tu parli l'inglese sarei bravissimo e poi soprattutto ne ho parlato al world camp europe a porto dove udite udite nonostante il mio inglese ho fatto un intervento sul palco all'interno di un panel e lì poi rivedendomi mi sono accorta che la mia pronuncia non era neanche la peggio che c'era sul palco e la parlandone proprio con un mio collega madre britannico proprio adesso mi ricordo di quale quale paese è proprio britannico in tutto e per tutto con pronuncia britannica eccetera lui diceva non ti devi scusare per il tuo inglese anzi saremmo noi a doverci scusare del fatto che non parliamo altre lingue se non l'inglese e soprattutto mi dicevano quando io quando mi diceva che quando lui parla con uno straniero che parla inglese si immagina la fatica mostruosa del che si fa a trasformare pensieri in una lingua e a tradurli in frasi parlate in inglese quindi lui anzi ammira gli stranieri e loro generalmente ammirano gli stranieri che si sforzano di parlare inglese quindi per piacere mai 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 sorry for my english grazie grazie laura aboliamo questa frase d'altro vocabolario anche perché sono delle frasi come quando uno ha poco tempo per fare un intervento e va sul palco e comincia a dire c'è poco tempo scusate sarò breve perché c'è poco tempo e intanto ha speso cinque minuti esatto ha speso cinque minuti a scusarti ma vai sul pezzo direttamente di quello che devi dire poi se qualcuno non ti capisce eventualmente te lo chiederà chiederà di ripetere esatto aderisco in toto all'istanza grazie mille grazie a voi